Ciao! Ma guarda che c'è! Lei è perfetta, te lo assicuro! Ti ha visto almeno! Stava per farlo! Che fai? Non farlo! No! 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 Ciao! Oddio! È una cosa emozionante! Che succede? È una domanda del tutto comprensibile, visto che... Io sono un if! Capito? Un amico immaginario! I nostri bambini sono cresciuti! Se ne servono di nuovi! Puoi salvare tutti noi! Tutti chi? E non dire gli if! Lascia glielo dire, o credo che la sua testa esploderà! Ok! Grazie! Sei pronta? Non sappiamo chi c'è dietro quella porta oggi! Dobbiamo aiutarli? Sì, dobbiamo! Non te lo dico più! Metti dei pantaloni! Stai spaventando tutti! Cerca... Cerca di non guardarlo negli occhi! E come si fa? Come si fa a non guardarlo? Grazie per l'aiuto! Per me significa molto! Oh! 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 Allora! Allora... Non guardarlo! Allora! Grazie a tutti.